Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. L'ex tronista Davide Donadei ha pubblicato sui social una storia Instagram che ha allarmato i fan. Il protagonista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato in un letto d'ospedale e ha svelato ai followers di avere alcuni problemi di salute che l'hanno spinto a un ricovero improvviso, nel comunicare cosa era successo. Davide Donadei ha anche annunciato che per i problemi di salute che l'hanno costretto al ricovero in ospedale dovrà annullare una serata a cui avrebbe dovuto partecipare. La storia Instagram pubblicata sul suo account mostra l'ex tronista pugliese in ospedale. Già nei giorni scorsi, Davide Donadei aveva rivelato ai followers di doversi sottoporre ad alcuni accertamenti clinici. Ma non si aspettava di certo che il ricovero a cui è stato costretto lo portasse a dover annullare una serata a cui avrebbe dovuto partecipare in qualità di DJ. Ai followers preoccupati, Donadei ha spiegato che da giorni era stato fiaccato da un'influenza che si manifestava con febbre molto alta la sera. A questi sintomi se ne erano aggiunti altri più preoccupanti, fegato e milza imbrossati e un arto completamente viola. L'ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato che si tratta probabilmente di un'infezione, ma che le cause non sono ancora chiare. Da qui, la decisione dei medici di tenerlo sotto controllo in ospedale, per svolgere nuovi esami. Da circa dieci giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera ho deciso di andare al pronto soccorso. I risultati delle analisi erano tutti anomali. Avevo fegato e milza ingrossati e un arto completamente viola. Recentemente abbiamo riscontrato un'infezione, la cui causa è ancora da determinare. Nei prossimi giorni mi dovrò sottoporre a nuovi esami. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.